Grazie Presidente, sull'ordine dei lavori io vorrei chiedere un minuto di silenzio in ricordo e in commemorazione mi verrebbe da dire del sindaco di Rocca di Papa e del proprio delegato deceduti a seguito dello scoppio e quindi dell'incendio di cui credo tutti siamo a conoscenza. È una richiesta che io faccio a lei e faccio all'aula perché il gesto compiuto e quindi la morte conseguente ha un gesto di estremo altruismo manifestato da entrambi, dal sindaco e dal suo delegato che per ultimi hanno lasciato la sede del comune pagando con la vita non tanto per le ustioni ma per quanto è stato inalato credo che meriti veramente un riconoscimento anche da parte dell'Assemblea Capitolina. Sembra una richiesta assolutamente accoglibile e condivisibile. Quindi colleghi, un minuto di silenzio. Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Grazie.